La tendopoli delle periferie porta con sé il numero 34, tante infatti le edizioni dell'incontro tra giovani ideato e voluto da parre Francesco Cordeschi. In tendenza però con gli ultimi anni c'è stato un calo nelle presenze che sono sempre importanti ma che stanno perdendo in termini di numeri. Il Vescovo di Teramo, Michele Seccia, non pensa che sia una mancanza di appeal ma si tratti di un semplice ricambio generazionale. Non è questione di numeri o di masse, io credo che sia una questione di qualità perché prendiamo per esempio, paradosso al contrario, giornate mondiali della gioventù. I giovani ci sono, sono tantissimi, avvengono ovviamente da tutte le parti del mondo ma il problema è che cosa riportano poi non solo a casa ma nel contesto nel quale vivono e cosa riportano nella loro vita. In questo senso si potrebbe anche parlare di una periferia perché là dove noi pensiamo che i giovani oggi non hanno più valori, sono guidati da altri ideali, da altri obiettivi, altre motivazioni, lì può sorgere e nasce anche un nuovo modo di rivelarsi di Dio nel cuore dell'uomo. I giovani che dicono ce ne sono tanti che sono la prima tendopoli della loro vita e tanti che invece ne hanno alle spalle parecchie. C'è anche chi nelle tendopoli fatte ha trovato la propria strada nella fede. Io credo che gli scopi della tendopoli, lo scopo della tendopoli principale sia quello di far fare un'esperienza personale di Dio. Poi questa esperienza ciascuno la vive, la interiorizza secondo quello che Dio sta donando a ciascuno. Sono tanti i giovani che nella tendopoli incontrano una vocazione particolare, che sia quella della vita matrimoniale, sono tante anche le coppie sposate con i bimbi che sono venuti a trovarci, che sia come nel mio caso anche la vita religiosa. Io ho iniziato da tendopoli nel 1991, avevo 16 anni e oggi a 39 sono sacerdote già da 9. Ne ho fatte 26 e sono nata, sono cresciuta qui in tendopoli. Avevo 12 anni, la prima tendopoli e poi sono rimasta nel corso del tempo a dare una mano. Quindi questo che svolgo attualmente è un servizio, quello dell'ufficio stampa, però la tendopoli insomma ce l'ho nel cuore. Io ho iniziato nel 1999, quindi la quindicesima. Lo spirito è ogni anno sempre nuovo, perché comunque sai, qui alle pendigi del Gran Sasso, di fronte al Santo dei Giovani, ogni anno è sempre una novità e qualcosa di diverso. Lo spirito è quello di fratellanza, comunione, di avere, sapere che c'è qualcuno su che guida la nostra vita. Sono sei anni, sei anni di passione, sei anni di esperienze forti, è arrivati al sabato, pianti che tuttora sono vivi dentro di me. Ma io penso che comunque sia il fatto che è un'esperienza molto formativa, ma anche si rincontrano ogni anno le persone con cui si cresce nella fede, spiritualmente. E poi è molto stimolante, cioè c'è molto da imparare sia da persone che condividono la nostra fede, sia anche da persone che sono un po' lontane dal nostro mondo e quindi sanno trasmetterci tanto anche a noi che siamo un po' più giovani, che cresciamo comunque in questo cammino.